Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati in un nuovo video e come vedete siamo in un vlog all'aperto. Perché questo vlog? Perché devo parlarvi di due cose molto importanti del canale e poi vi dirò dopo. Sono fuori principalmente per il fatto che c'è un bellissimo sole, a me il sole mi piace da impazzire, quindi ho volto l'occasione per fare questo vlog all'aperto e sono anche sul dondolo di casa mia, quindi un'ottima location e non sto registrando video all'interno di casa perché non ho un sistema di illuminazione ottimo per registrare. Soprattutto non ho comprato ancora la webcam, ma raga, sono un cogliore, mi devo sbrigare per comprarla e spero di prenderla nel breve tempo possibile. Per chi questo vlog è molto veloce, probabilmente uscirà nel pomeriggio, sempre alle 18, non so se sabato o domenica, dipende dall'upload. E iniziamo subito all'upload. Vi dico che ho messo la fibra 100 MB lunedì, vengono i tecnici a montare, a fare quello che devono fare, sinceramente non lo so, e con questa fibra caricherò video a profusione, davvero, non ce la faccio più con questa fottuta connessione che ora fa davvero schifo e mi succede una cosa davvero incredibile. Non so se voi siete un po' più esperti di me, probabilmente sì, quando io carico un video tutti gli altri dispositivi smettono di funzionare, non è che si rompono, eccetera. Cioè non vanno più con la connessione, non vanno più su internet, fanno schifo. Vanno lentissimi, l'unica cosa che funziona è il computer dove sto caricando il video, ma non posso dire che funziona perché carica il video ma non mi fa andare da nessun'altra parte e mi dice che la connessione non c'è. Non so il perché, quindi o carico il video oppure faccio tutt'altro. Con la fibra 100 MB potremmo fare davvero tantissime altre cose, come ad esempio dei vlog, dei video extra, oltre alla serie classica di Clash of Clans, come vi ho detto nel video di Clash Royale, magari con altri video pomeridiani e colgo l'occasione per dirvi di lasciare delle domande qui sotto che probabilmente utilizzerò per il fuck you time. Ora passiamo all'ultimo punto, c'è il punto fondamentale, ovvero i saluti. In ogni video mi tartassate da una cosa fantastica, Grax mi saluti, Grax sono tizio del clan, eccetera, mi saluti nel prossimo video, vi dico che in questo video do l'apertura alle liste. Affrettatevi a scrivere il vostro nome qui sotto così che io possa segnarlo e vi dico già che ne segnerò al massimo 150-200, perché nello scorso video in cui ho aperto le liste avete scritto tipo 500 commenti e sono stato, non dico una cazzata, quasi tre ore e mezza a segnare i vostri commenti qui. Vi starete chiedendo che cos'è questo? Questo ragazzi è il Death Note. Non c'è stata cosa più bella, cioè, tanto ormai Death Note fa parte del mio canale, tutte le coronne sonore di tutti i miei video di Clash of Clans e ci sta la grande. Ho preso un quadernino monocromatico nero e con il bianchetto, perché con il bianchetto non so se si legge bene, c'ho scritto Death Note, scritto malissimo, però il quaderno originale, cioè quello rifatto proprio stile Death Note, non l'ho trovato, peccato, però mi sono arrangiato Grax, fai da te e ho creato questo quadernino. Segno qui tutti i nomi e con il passare dei video, salutandone 5 a volta, li barro. Ci faccio un asterisco in modo tale che mi ricordo che li ho già salutati. Non più di 200 perché non farebbe comodo né a me, perché io ci sto un'ora a segnarli, né a voi. Se ne segno più di 150 a 200 vorrebbe dire che magari gli ultimi che ho segnato li vado a salutare tra due mesi, cioè non ha senso, ragazzi. Quei 150 a cui io scrivo nel commento, gli metto like, scrivo aggiunta la lista, cascasse il mondo al 100% li saluto, perché ovviamente li segno qui. Segnandoli qui è impossibile che mi sfuggano, li ho tutti qui immagazzinati già dal primo e ovviamente se vi ho già segnato e aggiunto la lista non riscrivetelo un'altra volta in altri video perché tanto vi ho segnato e ovviamente vi saluterò. State tranquilli che nei futuri video, non nel seguente perché è impossibile, nel seguente saluterò i primi 5, in quelli futuri ovviamente potrete esserci. Quando avrò raggiunto la cifra di 150 persone, ora non proprio 150 precise, quando ho visto che ho riempito troppe pagine del quaderno, ovviamente scriverò un commento in cui dico le liste sono chiuse. Dall'in poi è inutile che voi continuate a scrivermi Grax, salutami, perché non segnerò più nessuno e soprattutto nemmeno nei video futuri. Quando riaprirò le liste, ovviamente farò un altro video del genere, magari sempre aggiornamento del canale, in cui ve lo dirò. Quindi state tranquilli che vi saluto tutti. Altre cose da dirvi non ne ho, quindi spero di non essermi dimenticato niente, spero anche di non aver fatto troppo casino con il dondolo e soprattutto che si veda perché sono in penombra, anche se c'è la luce del sole. Vi chiedo di lasciare un like per supportarmi e ovviamente se volete farmi anche la domanda per il fuck you time, mettete magari l'hashtag fuck the system, però dividetela dal commento del saluto, cioè fate in un commento il saluto e in un altro commento la domanda per il fuck, in modo tale che io poi la taglio e la metto nel futuro video. Grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, bella ragazzi!